Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo tipologia di video Facciamo una recensione, non di libri ecco, ma di un pacco che mi è arrivata una cosa molto particolare Sto parlando della ditta Sal Digital Vi lascio il link al loro sito giù in fondo Che mi ha chiesto una collaborazione E la ditta Sal Digital è una ditta tedesca che si occupa di stampe fotografiche Stampa veramente su qualsiasi materiale, su qualsiasi superficie E si va dalle tele alle fotografie ai fotolibri E mi hanno gentilmente offerto un buono per provare un fotolibro Stampa su un fotolibro e vedere un po' cosa ne penso La spedizione è partita il 4 agosto Oggi sto filmando del 9 ma ciò stai sabato e domenica Quindi 5 giorni, però 2 erano festivi La posta non viaggia il sabato e la domenica solitamente E quindi in 3 giorni è arrivato il tutto dalla Germania Ora, io mi atterrò a fare un'attenzione sulla qualità ovviamente della carta, della stampa E vi farò vedere alcune foto Perché? Perché io ho deciso di usare il buono offerto mi dalla Sal Digital Per creare il mio portofolio ovviamente ho messo delle foto che ho fatto anche per lavoro E visto che non mi sembra giusto far vedere le foto dei miei clienti Non penso che sia molto corretto Ecco, quindi vi faccio vedere il paesaggio e comunque le foto di chi mi ha dato la sua liberatoria Tanto mi inserisco tutto in questa busta Che a me piace anche come un po' la busta E poi c'è un'altra busta Ovviamente con la Sal Digital mi è andato un buono di 40 euro Non so se l'avevo detto Ho preso un fotolibro che è un 28x19 quindi panoramico, una 4 orizzontale È lucida, la pagina è lucida con copertina rigida, lucida ma non imbottita Ed è un prezzo di 34,95 con 26 pagine Le spese spese sono 5,95 E io ho preso una 40 quindi è venuto 40,90 Ha pagato 90 centesimi di differenza Sal Digital ovviamente come non so se avete mai realizzato un fotolibro Andate nel sito dell'azienda Scaricate il loro software per la creazione del fotolibro E il fotolibro è completamente customizzabile Cioè dalla copertina all'impostazione delle foto, tutto E allora Questo qua è il mio portofolio, ve lo presento Sono tanto emozionata perché è il primo portofolio che realizzo E allora la copertina è ottima E poi vedete anche qua, non so se riesci a vedere C'è questa curvatura che è molto utile per non far rovinare le pagine E io ho fatto una copertina molto semplice, un font molto semplice Due colori Ok Apro Wow Solitamente Negli altri, ok, questa ve lo posso far vedere Queste sono foto patologistiche Solitamente negli altri fotolibri Questa pagina non la stampano Quindi sono 26 pagine ma due sono fallocchie Perché il retro del fronte e del retro, diciamo Non so se mi sono spiegata Non si stampa Loro stampano e sono contentissime di questa cosa La pagina è molto spessa E questa è una buona cosa Non si crea questo problema quando si gira di piegare o no E il colore è ottimo, veramente Questa, questa foto è una fontana specchiata Nel senso che è il riflesso di una fontana Fatti vedete dall'erba, farò gire così E queste, diciamo, sono in fe Questa è diretta fatta col cellulare Però mi piaceva molto da mettere Mi piace particolarmente E questo è pure col cellulare Cellulare, analogica, analogica Ok, questi sono tutti i colori della mia bellissima terra Abbiamo dal mare al tempio Al campo abbandonato Al laghetto con una piccola mucca qua Sì, questo è ok Sto vedendo ovviamente Fino a dove posso farvi vedere Perché appunto ho detto Dopo c'erano fotografie che io realizzo E non mi sembra il caso Farle vedere a tutti quanti Non sapendo se Cioè, alla fine sono una cerimonia di 18 anni Due comunioni, un matrimonio Ma non penso che sia il caso Questa invece è la mia pagina Lomo Volevo dedicare anche una pagina alla Lomo E se siete interessati a Comunque a tutto quello che è Lomografi Lomo, Diana Mini Tutte queste camere molto chibi Molto fashion Io ne ho tipo Non so quante Cosa mai inizierò pure a fare dei video Nel frattempo sto vendo delle foto Che non avevo mai visto stampate E beh Sono emozionanti Perché quando Vedo il mio lavoro Completato E quindi fare fotografie per me Non solo scattarle Non solo processarle Ma anche stamparle su carta È meraviglioso Quando i clienti a volte mi chiedono solo Le foto in cd Perché? Cioè, no Non esiste Io capisco che magari Non si possa stampare 80 fotografie Ma dai 26 pagine 40 euro È meraviglioso Mi piace Mi piace la qualità Del materiale Con cui è stampato Mi piace parecchio E sono molto fiera Di questo mio portofolio E sono contentissima Che la sale Mi abbia dato Questa opportunità Di partecipare Ovviamente il link Lo lascio sotto Ehm Vedete è meraviglioso Perché è veramente Un'ottima stampa E poi questa cosa Che anche le pagine In retro Diciamo Della copertina Sia Stampabile È una cosa meravigliosa La pagina La qualità È ottima Sì Io sniffo I colori Vabbè Gli inchiostri Lasciano stare E mi piace Molto 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 Vediamo La qualità Non perde assolutamente Non Anche il Il software Di Di realizzare Il fotolibro È veramente Ottimo Permetti fare cose Che altri Software Non permettono di fare Sono più Qui Questo è il mio Fotolibro E sono contentissima Ringrazio La Sal Digital Che è Questa azienda qua Ok E Non so Magari è anche Una buona idea Per stampare le foto Di quest'estate Perché le foto Si stampano Non si tengono Solo Sui social O nel telefonino O negli hard disk No Le foto Si fa una bella Selezione E si stampano Le 10 20 30 Migliori Di un periodo Decisamente Non è la stessa cosa Non è la stessa emozione Quindi Io con il mio bellissimo E nuovo portofolio Vi saluto E al prossimo video Ciao Ciao Ciao!